Se Giulia si prepara ad entrare in zona bianca, se i numeri saranno confermati, il passaggio avverrà dal 1 giugno, sparirà il coprifuoco, Draghi accelera sulle riaperture, ecco tutte le novità. Dalla web app regionale, le farmacie e i quarantenni hanno approfittato di tutti i canali disponibili per prenotare il vaccino, oggi secondo giorno consecutivo senza vittime con covid in regione. Crollo del traffico aereo, passeggeri e merci del 73%, il 2020 chiude con perdite per 1.400.000 euro l'effetto covid sul bilancio dell'aeroporto regionale di Ronchi. Tempi lunghi per il rilascio, rinnovo delle carte d'identità, il comune di Udine accorre ripari, inaugurato lo sportello decentrato della Nagrafe in terza circoscrizione. E' stato battuto lo sprint finale, il proderonese Davide Scimolai sul traguardo di Foligno nella terza tappa del Giro d'Italia del terzo podio in questa corsa rosa per lui. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Se sarà confermato il trend degli ultimi dieci giorni, dal primo giugno il Friuli Venezia Giulia sarà in zona bianca. Oggi riunione della cabina della regia politica e consiglio dei ministri per il nuovo decreto. Draghi sposterà il coprifuoco alle 23 da domani e nel weekend riaprono i centri commerciali nel servizio le principali novità. I dati in continuo miglioramento all'incontro con il comitato tecnico scientifico hanno convinto il premier Mario Draghi ad anticipare le aperture previste da giugno. Le misure sono in questo momento in discussione nel consiglio dei ministri iniziato dopo le 18.30 al termine della cabina di regia alla presenza dei rappresentanti di tutti i partiti. Per i Friuli Venezia Giulia in realtà le cose potrebbero migliorare già dal primo giugno in quanto i dati, se confermati anche nelle prossime due settimane, consentiranno di passare direttamente in zona bianca. Andando con ordine comunque a livello nazionale la novità più importante è quella del coprifuoco che già da domani dovrebbe passare dalle 22 alle 23 per poi arrivare alla mezzanotte dal 7 giugno ed essere cancellato dal 21 giugno almeno per le altre zone in quanto in bianca sarebbe eliminato fin da subito. Ottime notizie anche per le palestre che potranno riaprire, se in zona gialla, già dal 24 maggio e non dal primo giugno. Anche i centri commerciali anticipano le aperture nel weekend con questo sabato e domenica come gli impianti di risalita. Al momento resta confermata la possibilità di consumazioni al banco e di pranzi e cene al chiuso dal primo giugno data nella quale si potranno aprire gli spalti delle competizioni sportive fino a un massimo di 1000 persone sulla base della capienza, ovviamente all'aperto. Al primo luglio invece per le competizioni al chiuso e fino a un massimo di 500 spettatori. Per matrimoni e cerimonie si potranno fare dal 15 giugno con Green Pass e sulla base delle linee guida che arriveranno dal comitato tecnico scientifico. Stessa data per l'apertura dei parchi tematici e per convegni e congressi con questi ultimi che richiedono però il Green Pass. Il primo luglio invece via libera, corsi di formazione, alle sale giochi e centri scommesse, piscine e centri natatori al chiuso e centri culturali. Ancora nulla di fatto per discoteche la cui riapertura è attualmente in fase di valutazione. Per il secondo giorno di seguito in Friuli Venezia Giulia non si registrano decessi con Covid. di ricoveri nelle terapie intensive scendono a 15, mentre restano 72 quelli in altri reparti, 16 in tutto i contagi, da 1.216 tamponi molecolari e 361 test rapidi antigenici. Scendono a 5.621 le persone in isolamento, nessun caso nelle strutture per anziani, sia tra ospiti che operatori. 3.000 le persone in attesa sulla web app regionale alle 4 di questa mattina, poi diventate 5.000. I quarantenni hanno preso d'assalto la piattaforma dedicata nel primo giorno utile per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid per gli over 40. moltissimi cittadini che sono rivolti alle farmacie per prendere appuntamento. Alle 10 di questa mattina le adesioni erano 14.343, all'assessore le adesioni quotidiane totali alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia erano 15.984. Positiva la risposta ai vaccini anche per la due giorni di Villa Manin, dove nel fine settimana sono stati complessivamente 2.229 i vaccini inoculati. Nel 97% dei casi è stata somministrata la monodose della Johnson & Johnson, mentre per 71 dosi è stato usato il farmaco Pfizer. Crollo del traffico aereo che cala del 73% e perdita di 1,4 milioni nel 2021. L'effetto Covid sul bilancio del Trieste Airport. Un rosso di 1,4 milioni di euro causato dal crollo del traffico aereo con un meno 73% di passeggeri e del meno 72% di merci. Il bilancio 2020 del Trieste Airport, come per tutti gli scale del mondo, si chiude con un segno meno pesante, ovviamente a causa della pandemia che ha azzerato gli spostamenti sia nelle rotte interne che in quelle estere, con 4.600 aerei movimentati in meno rispetto al 2019 in calo del 66%. L'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, intervenendo all'Assemblea dei Sogi con la regione che detiene il 45% delle quote, ha espresso comunque ringraziamento per l'attività della direzione nel riuscire a mantenere i livelli occupazionali, anche se 130 dipendenti sono in cassa integrazione e a ridurre i costi. La società e il suo management, ha detto Zilli, si sono mossi al meglio per limitare i danni, contenendo il più possibile i costi operativi e registrando alla fine un margine intermedio ancora positivo, anche se non in grado di assorbire gli oneri derivanti da ammortamenti e accantonamenti. Adesso diventa strategico concentrare tutta l'attenzione sul piano voli per i prossimi mesi estivi. Il nostro scalo, ha concluso Zilli, è un elemento fondamentale nel processo di potenziamento dell'attrattività turistica del Friuli Venezia Giulia. La di Marco Consalvo ha sottolineato come le previsioni più accreditate parlano di una ripresa del traffico aereo del 2024-25. Ha confermato come l'Italia porterà la rotta a Trieste-Roma due volte al giorno e da settembre forse tre si tornerà a quattro nel 2022, crisi all'Italia permettendo. Consalvo conferma anche la volontà di puntare sulle low cost con Ryanair che ha rimesso in vendita le otto destinazioni in decollo da Trieste, Palermo, Napoli, Cagliari, Bari, da fine maggio Catania e poi riprenderanno Londra, Malta e Valencia. Volotea a fine maggio riprende in Napoli, Palermo e Olbia. Infine Lufthansa da inizio luglio riparte con due voli al giorno su Francoforte e successivamente Monaco. La Cimulai di Pordenone realizzerà la nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni nell'ambito del megaprogetto di riqualificazione urbana Milano Sesto su progetto di Renzo Piano. Prevista una passarella sospesa in vetro e acciaio lunga 89 metri serviranno due anni per il completamento. Sarà la Cimulai di Pordenone a realizzare la nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. L'azienda friulana ha vinto la gara indetta da Milano Sesto, società proprietaria delle aree Exfalc, dove sorgerà la struttura progettata dallo studio Renzo Piano Building Workshop con Ottavio Di Blasi e partner. La nuova stazione darà il via alle opere pubbliche di Milano Sesto, il più grande progetto di rigenerazione urbana in Italia e uno dei principali a livello europeo. Un investimento di 14 milioni e mezzo di euro che permetterà la conversione delle aree dove un tempo sorgevano le acciaierie Falc in una nuova destinazione urbana. Le opere di costruzione della nuova stazione ferroviaria inizieranno a luglio e vedranno la realizzazione di una passarella di 89 metri di lunghezza per 18 di larghezza, sospesa al di sopra della linea ferroviaria esistente. La struttura in ferro e vetro avrà inoltre una copertura fotovoltaica in grado di alimentare per intero la nuova stazione, per la quale serviranno due anni di lavori. Cimolai presterà particolare attenzione alla minimizzazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda le polveri. Per Luigi Cimolai, presidente dell'azienda pordenonese, questo progetto rappresenta una nuova sfida nell'ambito delle grandi riqualificazioni urbane. Nel filone principale del processo sui falsi prosciutti DOP al Tribunale di Pordenone, oggi nell'udienza preliminare il PM ha chiesto il non luogo a procedere per l'associazione delinquere. Restano in piedi le ipotesi di frode, contraffazione alimentare e truffa. Le sentenze sono attese per il 28 giugno. È ripreso dopo la sospensione causata dalla pandemia al Tribunale di Pordenone il processo sui falsi prosciutti DOP. Un'inchiesta nata nel 2018 e che ha visto oltre 100 indagati che si è sviluppata in due filoni. Oggi davanti al gruppo Rodolfo Piccin si è discussa l'udienza preliminare del filone principale, quello che vede indagate 24 persone fisiche e 10 giuridiche, tra imprenditori, allevatori, veterinari e società, ai quali la Procura contesta le ipotesi di frode nell'esercizio del commercio e contraffazione di alimenti DOP. E a otto di questi anche un'ipotesi di truffa tentata e di una truffa consumata per il conseguimento di contributi regionali. Ma l'accusa più pesante era quella di associazione delinquere che pendeva sulla testa di otto indagati. Per questo reato il PM Carmelo Barbaro ha chiesto formalmente il non luogo a procedere, sulla scorta di quanto già indicato dal Tribunale del Riesame di Trieste e dalla Cassazione. Una notizia accolta con fiducia dagli avvocati difensori. Tra gli indagati, quattro hanno chiesto il rito abbreviato, uno il patteggiamento, altri la messa alla prova. Il giudice Piccina ha rinviato l'udienza il 28 giugno quando sono attese le repliche e le sentenze. Tutto fermo invece per il secondo filone, quello che vede una settantina di indagati approdato al dibattimento con citazione diretta dinanzi al giudice monocratico Eugenio Percola. Manca per questo ancora una nuova data. Un cittadino rumeno di 53 anni, residente a Cervignano, è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Udine di moleste e minacce nei confronti di un conducente condannato dal giudice Mauro Qualizza. 900 euro di ammenda. I fatti risalgono al 17 maggio 2019 quando l'uomo in preda all'alcol ebbe un diverbio con il conducente per un servizio e cominciò a insultarlo. Durante la notte inviò al tassista alcuni messaggi nei quali affermava di conoscere persone di varie etnie e di volerlo cercare. Gli insulti continuarono anche il giorno successivo davanti alla stazione dei Carabinieri e la presenza di un militare dell'arma dove due si erano dati appuntamento per dirimere la questione e il giorno successivo ancora quando il 53enne incontrò il conducente nel piazzale della stazione di Cervignano finendo per sputtargli in faccia. Atteggiamento questo che convinse il tassista a presentare querela. L'uomo è stato anche condannato a risarcire la vittima con la somma pari a 2.500 euro. Il maltempo di questa notte ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco in diversi comuni del Friuli-Venza Giulia a causa di una frana è stata chiusa temporaneamente la statale 54 a Pulfero in direzione della Slovenia riaperta solo in mattinata a senso unico alternato, smottamento anche a Tarcento ha quaduto a alberi, rami, poi a San Vito Tragliamento, Ronchi, Delegionari, Zona Miramare e San Vito. Alla torre a Lagamenti, uno stabile a San Agnale del Friuli, un fulmine ha colpito un quadro elettrico infine a Muzzana del Turniano. Le condizioni meteo sono migliorate poi a metà mattina. Colpo da 40.000 euro in un'azienda di Povoletto questa notte ad accorgersi della sottrazione è stato un dipendente che giunto a lavoro ha scoperto il furto di materiale in rame di diversi costosi macchinari. Indagato per ricettazione dalla squadra a volante di Udine, un cittadino romeno durante un controllo su strada eseguito ieri in via Fondi Sotto nel capologo Frulano è stato trovato in possesso di 139 bottiglie di superalcolici e champagne di marca che trasportava su un van tutto è stato posto sotto sequestro. Il sindaco di Pordenone oggi ha asporto denuncia ai carabinieri per l'ostriscione apparso fuori da casa sua sabato con il quale veniva etichettato come fascista. Dello striscione esposto fuori casa del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani con il quale veniva etichettato come fascista si occuperanno i carabinieri. Il primo cittadino oggi ha asporto formale denuncia ai militari dell'arma di fiume Veneto consegnando anche le immagini della videosorveglianza esterna dell'abitazione. Spero che le indagini possano portare a individuare a quelli che hanno appeso questo striscione, uno striscione delirante che attacca il sindaco non sul piano politico ma sul piano puramente ideologico, ripeto delirante. Ma la cosa che mi ha fastidito non è stato tanto il testo, nel senso che non do peso a quello che ritengo l'atto di qualche vigliacco, ma il fatto che è stato appeso fuori da casa mia di notte, come un gesto mafioso per dire sappiamo dove sei, una vera e propria minaccia, un'intimizzazione. Se la discussione politica può essere anche accesa, talvolta aspra, se le ruggine esistono non si può però arrivare a questi livelli. Il gesto è arrivato a ridosso dei giorni in cui si celebra il centenario delle barricate antifasciste di Torre e a Ciriani sono arrivati attestati di vicinanza da più parti. Bene che sono arrivati attestati di solidarietà trasversale, ci sono però degli ambienti ancora in questa città legati ad una certa sinistra che vivono la politica ancora con la testa rivolta nel passato, negli anni 70, nello scontro ideologico e che considerano il sindaco un fascista. Ma perché? Non perché vada via in Orbace e col saluto romano, ma semplicemente perché ha delle idee politiche distanti dalle loro. Io ho fatto il presidente di provincia, ho fatto il sindaco, credo non aver mai provocato motivo di sdegno nei confronti della mia comunità e non ho bisogno di presentare patenti di democraticità o di agimilità democratica a nessuno. E per quanto riguarda i vaccini, le adesioni totali alla campagna in Friuli Venezia Giulia, comprese quindi quelle della fascia 40-49 anni, sono complessivamente pari a 36.928, la maggior parte delle quali è avvenuta rivolgendosi alle farmacie abilitate, ovvero 20.289. Ed è stato inaugurato questa mattina nella sede della terza circoscrizione in via Cividale lo sportello decentrato dell'ufficio anagrafe del Comune di Udine. È uno sportello dedicato alle carte d'identità e altri documenti che si fanno in anagrafe, senza venire in centro città in via Beato d'Orico da Pordenone, dove è la sede dell'anagrafe del Comune. Abbiamo installato in questo luogo qui nella sede della circoscrizione uno sportello per il rilascio delle carte d'identità. C'è qui la macchina, si fanno tutte le pratiche con tempi più ristretti rispetto a quanto avviene a Udine. Abbiamo voluto portare sul territorio queste opportunità anche perché c'è una lista d'attesa abbastanza lunga e quindi in questo modo cerchiamo di accorciare i tempi per il rilascio di un documento fondamentale e importante com'è la carta d'identità. Allora l'invito è ai cittadini soprattutto nella zona S della città di potersi arriccare qui senza venire in centro per fare i documenti, il documento forse più importante che è la carta d'identità. Si può fare qui in via Cividale nella sede della circoscrizione. L'angelo del Castello, uno dei simboli di Udine dipinto sulla cabina dell'Enel, uno degli accessi del capoluogo frulano e la parte di un nuovo murales del progetto Udine città della poesia. È stato inaugurato questa mattina. Un nuovo murales a Udine arricchisce il percorso dei dipinti di Simone Mestroni dedicati alla città della poesia. Questa opera si intitola Udine città della poesia e raffigura su un lato la copertina di un libro che vuole diciamo raggruppare e unire tutti quelli che sono i murales dell'artista e anche di altri artisti della città di Udine. Ovviamente questo murales è realizzato grazie al contributo e patrocinio del comune di Udine e ringraziamo anche l'Enel Italia per aver messo a disposizione una loro cabina. Città della poesia è un progetto di resistenza culturale e di didattica letteraria. Poi l'opera in questione invece fa riferimento a una copertina di un libro vediamola così che racchiude tutte quelle che sono le opere letterarie di città della poesia dislocate nella città. Anche se voglio aggiungere che questa è un'opera che vuole in qualche modo sdebitarsi con i cittadini per la riconoscenza che questi ultimi mi hanno dato in questi anni. E quindi ho voluto fare un'opera importante, forse capitale per la città e la dedico appunto alle persone che in qualche modo anche mi vogliono bene pur non conoscendomi perché quello che ho fatto è entrato dentro di loro. Il Tardi Trieste annulla la bocciatura da parte del Consiglio Comunale della variante 48 di San Giorgio di Nogaro che prevedeva la nascita di un nuovo supermarket sulla provinciale 80. Un no determinato dai voti della minoranza di tre consiglieri di maggioranza e ora la giunta Mattiussi è in bilico. Il Consiglio Comunale di San Giorgio di Nogaro dovrà prendere nuovamente in esame la variante 48 sulla quale si è spaccata la maggioranza che sostiene la giunta del sindaco Roberto Mattiussi. A decidere è stato il Tardi Trieste che ha colto il ricorso della commerciale immobiliare di Spilimbergo contro la bocciatura della variante. Il fatto risale al 24 febbraio. quando il Consiglio Comunale non approva la proposta di variante che prevede lo scambio di destinazioni d'uso, archigianale e commerciale, di due aree edificate e urbanizzate a nord del comune in una delle quali c'è l'intenzione di realizzare un supermarket. Un no determinato dal voto della minoranza assieme a quello di tre componenti del gruppo di maggioranza cambiamento responsabile tra i quali Maurizio Pessina. La società ricorre quindi al TAR che osserva come l'unica motivazione al no è l'intervento in aula di Pessina precedentemente favorevole alla delibera che giustificava il voto in dissenso rilevando come l'operazione avrebbe riservato nuovi spazi commerciali in un contesto già caratterizzato dalla presenza di numerosi esercizi di gradi e dimensioni, oggi in crisi. Il giudice amministrativo ha osservato che non si tratta di nuovi spazi commerciali ma di uno scambio di destinazioni e che la volontà di limitare la concorrenza tra operatori economici a favore di quelli già insediati nell'area non può giustificare la mancata approvazione della variante alla fine di un procedimento che non aveva manifestato alcuna criticità. Per questo la decisione consigliare è stata annullata. Resta la frattura in maggioranza che potrebbe sfociare nelle dimissioni di Mattiusi e che sarà al centro del prossimo consiglio comunale fissato per lunedì 31 maggio. Le Fucine Caffè Bistrò di Butrio ha ottenuto l'affidazione con Io sono FWG con l'impegno di scegliere fornitori regionali attenti alla sostenibilità. Aperto da poche settimane Le Fucine di Butrio può vantare già una collaborazione molto importante. Il rinnovato locale di Butrio realizzato nell'ex stazione di servizio disegnata da Marcello D'Olivo entra a fa parte del network Io sono Friuli Venezia Giulia potendo esporre il marchio dorato riservato alle attività che scelgono fornitori regionali attenti alla sostenibilità. Il brand regionale incentrato sul territorio, cucina di prossimità e qualità degli ingredienti ha ricevuto la richiesta di adesione delle Fucine Caffè Bistrò tramite Agri-Food FWG che gestisce il marchio per conto della regione concedendo in poco tempo l'adesione. Lo staff guidato dallo chef Andrea Fantini ha creato un menù frutto di attente ricerca sulle materie prime proveniente dal Friuli Venezia Giulia seguendo il susseguirsi delle stagioni. A seguito dell'affiliazione lo staff delle Fucine ha visitato alcune delle aziende sulle FWG presso cui rifornirsi. Le Fucine Caffè Bistrò è nato all'interno dell'ex stazione di servizio commissionata dall'Officine Daniele nel 1962 a Marcello D'Olivo ristrutturata con la volontà di mantenere lo stile originale a 100 anni dalla nascita dell'architetto. È arrivato terzo lo sprint finale sul traguardo di Foligno Davide Cimolai della Israel Startup Nation. Il terzo podio in questo Giro d'Italia per il Pordenonese che per due volte è arrivato secondo domani giorno di pausa per poi iniziare la settimana che porterà il Giro d'Italia in Friuli. Basket dopo la vittoria in gara 1 per 75-60 la Gesteco sarà impegnata tra poco a Cividale nella seconda uscita contro la Virtus a Rechi Salerno. La gara sarà trasmessa in diretta su Telefriuli a partire dalle 19.30. L'obiettivo della squadra di coach Pillastrini dopo la positiva partenza di sabato e la vittoria in rimonta è sfruttare al massimo il vantaggio casalingo prima di affrontare le gare in trasferta. Vi lasciamo dunque alla sfida di basket. Vi ringraziamo per l'attenzione e buona serata su Telefriuli. Grazie a tutti.